Essere spiritualmente sensibili, i farisei erano aspri critici di Gesù Cristo, usavano la loro religione come un mimetismo per esprimere la loro gelosia e la loro rabbia contro di Lui. I farisei erano aspri critici di Gesù Cristo, usavano la loro religione come un mimetismo per esprimere la loro gelosia e la loro rabbia contro di Lui. I farisei non esitavano a perseguitare Gesù tutto il giorno, e lo seguivano ad ogni passo per trovare una scusa per criticare e sminuire il suo ministero. Le scritture riportano alcune delle azioni dei farisei, ora è accaduto il secondo sabato dopo il primo che egli, Gesù, ha attraversato i campi di grano. E i suoi discepoli spennavano le teste di grano e le mangiavano, strofinandole nelle mani. E alcuni farisei dissero loro, perché fate ciò che non è lecito fare il sabato? Le scritture riportano anche, ora è successo anche in un altro sabato che egli entrò nella sinagoga e insegnò. E lì c'era un uomo la cui mano destra era avvizzita. Così gli scribi e i farisei lo guardavano da vicino, sia che guarisse durante il sabato, per trovare un'accusa contro di Lui, LC 6,6-7, LC 6,1-2. Lezione, Satana ama collocare i suoi agenti malvagi intorno a persone divine per frustrare i loro sforzi. I nemici si concentrerebbero sul tentativo di far deragliare i credenti dai loro inseguimenti di rettitudine, castigando le loro opere e lanciando ogni pietra disponibile con la speranza che si possa attaccare. Perciò, per vincere il diavolo. I credenti devono essere spiritualmente sensibili vigili e oranti, e devono essere anche pieni di Spirito Santo. Tuttavia, i credenti non devono dimenticare che l'intenzione di Satana non è quella di scoraggiarli dal servire solo Dio, ma il suo motivo principale è quello di uccidere, rubare e distruggere la loro salvezza, Giovanni 10 e 10. Quindi mentre noi credenti rimaniamo in preghiera e vigili, possiamo seguire l'esempio di Gesù e reagire in modo appropriato in tutte le situazioni. Per esempio, quando Satana ha istigato la furia nei farisei per ostacolare Gesù, Gesù ha ignorato i farisei, i credenti dovrebbero ignorare in gran parte i loro critici. Gesù è rimasto ostinato nel fare gli affari di Dio, i credenti non dovrebbero mai smettere di fare la volontà di Dio. Gesù si ritirava sempre in un luogo silenzioso per pregare per il rinnovamento delle forze dopo il ministero, i credenti devono sempre ricaricare e rinfrescare le loro energie con le preghiere. Gesù ha cambiato luogo per evitare le distrazioni dei nemici, i credenti dovrebbero diversificare il loro ministero per superare in astuzie i loro nemici. Preghiera, caro Dio, ti prego, dammi la forza di superare Satana e di vivere trionfalmente sulla terra per glorificare il tuo santo nome. Ancora una volta, dammi la forza di rimanere concentrato e non prestare alcuna dannata attenzione al diavolo e ai suoi agenti malvagi. Lascia che il tuo Spirito Santo mi dia la forza di rimanere immobile e di continuare a servirti fedelmente, durante le opposizioni e le sfide. Inoltre, lascia che il tuo Spirito Santo mi dia la forza di essere vigile e di pregare, così che io possa continuare a prosperare in tutte le mie attività ministeriali, così che la luce del tuo Vangelo possa diffondersi in tutto il mondo. Quando la mia razza terrena sarà finita, lasciate che io appaia alla vostra presenza in cielo per ascoltare. Weldon e date il benvenuto al mio servo nella gioia del vostro Signore. Perché io faccio la mia richiesta nel nome di Gesù Cristo. Amen.